Buonasera Massimo, buonasera a tutti. Sì, è una bella botta rivedere queste scene. Un pugno allo stomaco di quelli che toglie il fiato. Avete rischiato di saltare in aria? La convinzione per tutta la serata è stata quella, che non sarebbe finita bene. Comunque c'erano tre case a circondare la vettura, la condotta del metano, quindi il presagio non era dei migliori in quel momento, assolutamente. È stato l'ultimo di una serie di avvertimenti, in realtà, quello, no? Sì, diciamo che è stato l'ultimo. Ecco, ma cosa ti contestano, scusa, il fatto che tu abbia deciso di schierarti con le Napoli? Sì, principalmente sì. In realtà c'è sempre questa veduta d'insieme in cui è tutta una grande macchinazione orchestrata da giletti, dove noi siamo delle pedine inconsapevoli, quindi chiunque si avvicini alle sorelle Napoli diventa un lebroso da tenere a debita distanza. Tu, quando eri venuto, avevi detto che a un certo punto era stata fatta un'offerta anche di lavoro in cambio di un tuo silenzio, di un tuo, diciamo, smettere di parlare con giletti. Sì, fondamentalmente mi è stato chiesto di fare dei passi indietro. In cambio di un posto di lavoro? Sì, in cambio della sistemazione della vita personale. Questa fu proprio la dicitura. Rita?